Capitolo 2 Montone arrosto Bilbo balzò su e, messosi la vestaglia, andò in sala da pranzo. Non vi trovò nessuno, ma erano ben visibili i segni di una colazione abbondante e frettolosa. Nella stanza c'era un disordine spaventoso e in cucina pile di stoviglie da lavare. Sembrava che fossero state adoperate quasi tutte le pentole e le casseruole che possedeva. I piatti da lavare erano così malinconicamente reali che Bilbo fu costretto a convincersi che la riunione della notte precedente non aveva fatto parte dei suoi incubi, come sperava vagamente. Ma si sentì proprio sollevato pensando che, dopo tutto, se ne erano andati senza di lui e senza darsi il disturbo di svegliarlo. Ma senza neppure dire grazie, pensò. Eppure non riusciva a fare a meno di provare una certa delusione. Questa sensazione lo sorprese. Non essere sciocco, Bilbo Baggins, si disse. Pensare ai draghi e tutte quelle bizzarre assurdità alle tattua. Così si mise un grembiule, accese i fornelli, scaldò l'acqua e lavò i piatti. Poi si fece una bella colazioncina in cucina prima di avviarsi verso la sala da pranzo. E a questo punto il sole splendeva e la porta d'ingresso era aperta, facendo entrare una tiepida brezza primaverile. Bilbo cominciò a fischiettare forte e a dimenticare quanto era accaduto la notte precedente. Stava infatti per mettersi davanti a una seconda bella colazioncina, in sala da pranzo, accanto alla finestra aperta, quando entrò Gandalf. Vecchio mio, gli disse, ma quando ti decidi a venire? E la partenza di buon'ora dove è finita? Eccoti qui a fare colazione o come la vuoi chiamare alle dieci e mezzo. Ti hanno lasciato quel messaggio perché non potevano aspettare. Che messaggio? Disse il povero signor Baggins, tutto turbato. Per i grandi olifanti, disse Gandalf. Ma che hai stamattina? Non hai spolverato la mensola del camino? E che c'entra? Ho avuto abbastanza da fare a lavare piatti di quattordici commensali. Se tu avessi spolverato la mensola, avresti trovato questo proprio sotto l'orologio, disse Gandalf forgendo a Bilbo un bigliettino, scritto naturalmente su carta intestata. Questo è quanto l'esse. Da Thorin e compagnia a Bilbo, lo scassinatore, salute e salve. Ti ringraziamo sinceramente per l'ospitalità e accettiamo con gratitudine la tua offerta di prestarci la tua assistenza professionale. Questi sono i termini. Pagamento in contanti alla consegna fino, ma non oltre, a un quattordicesimo del guadagno netto totale, se ce ne sarà. Tutte le spese di viaggio assicurate in ogni caso. Spese funebri a carico nostro o dei nostri rappresentanti. Se se ne presenterà l'occasione e la questione non verrà sistemata altrimenti. Ritenendo inutile disturbare il tuo pregiato riposo, abbiamo provveduto in anticipo a fare i preparativi necessari e rimarremo in attesa della tua insigne persona alla locanda del Drago Verde, a lungacque alle undici precise. Sicuri che sarai puntuale. Abbiamo l'onore di firmarci i tuoi devotissimi Thorin e compagni. Hai solo dieci minuti di tempo, ti toccherà correre, disse Gandalf. Ma, disse Bilbo, non c'è tempo, disse lo stregone. Ma, disse ancora Bilbo, non c'è tempo neanche per questo, sbrigati. Fino alla fine dei suoi giorni, Bilbo non riuscì mai a ricordare come fece a trovarsi fuori casa, senza cappello, bastone, un po' di denaro o una qualsiasi di quelle cose che di solito portava con sé quando usciva, lasciando a metà la sua seconda colazione e senza sparecchiare, ficcando le chiavi in mano a Gandalf e correndo alla massima velocità consentitagli dai piedi lanuginosi, su per il viottolo oltre il grande mulino, di là dall'acqua e poi per un miglio e più. Era tutto ansimante quando arrivò a lungacque. Proprio al rintocco delle undici e scoprì che era venuto via senza neppure un fazzoletto. «Ah, bravo!» disse Balin che stava sulla porta della docanda in attesa di vederlo arrivare. Proprio allora tutti gli altri sbucarono da dietro l'angolo. Montavano dei poni e da entrambi i fianchi di ogni poni pendevano i bagagli più disparati, casse, pacchi ed effetti personali. C'era anche un poni assai piccolo, a quanto pare destinato a Bilbo. «Montate su, voi due, e partiamo!» disse Torin. «Mi dispiace tanto!» disse Bilbo. «Ma sono venuto via senza cappello e ho dimenticato il fazzoletto e sono senza soldi! Non ho ricevuto il vostro biglietto che ha le 10.45 per essere precisi!» «Non essere preciso!» disse Dualin. «E non preoccuparti, dovrei fare a meno di fazzoletti e di un bel po' di altre cose prima di arrivare alla fine del viaggio. Per quanto riguarda il cappello, ho un cappuccio e un mantello in più nel mio bagaglio». Fu così che si misero in viaggio caracollando via dalla locanda in un bel mattino di fine aprile su dei poni sovraccarichi e Bilbo indossava un cappuccio verde scuro, un po' rovinato dalle intemperie e un mantello verde scuro prestatigli da Dualin. Erano troppo grandi per lui e gli davano un'aria abbastanza buffa, cosa che avrebbe pensato di lui suo padre, Bungo. Non lo so pensarlo. La sua unica consolazione era che non avrebbe potuto essere scambiato per un nano, visto che non aveva la barba. Cavalcavano da poco, quando arrivò Gandalf, veramente superbo su un cavallo bianco. Recava con sé molti fazzoletti e la pipa di tabacco di Bilbo. Dopo di ciò, dunque, la brigata andò avanti molto allegramente ed essi raccontarono storie e cantarono canzoni tutto il giorno mentre cavalcavano, eccetto naturalmente quando si fermavano per i pasti. Non ce n'erano tanti quanto Bilbo avrebbe voluto, tuttavia egli cominciò a pensare che in fondo le avventure non erano poi così brutte. All'inizio erano passati attraverso le terre abitate dagli Hobbit, una vasta e rispettabile contrada abitata da gente per bene, con strade buone, una o due locande e di quando in quando un nano o un fattore in giro per affari. Poi arrivarono a terre dove la gente parlava in modo strano e cantava canzoni che Bilbo non aveva mai sentito prima. Adesso si erano profondamente inoltrati nelle terre solitarie, dove non c'erano più né abitanti né locande e le strade andavano costantemente peggiorando. Non molto lontano davanti a loro si ergevano sempre più alte tetre colline scurite dagli alberi. Su alcune di esse si levavano vecchi castelli dall'aspetto sinistro, come se fossero stati costruiti da gente malvagia. Tutto sembrava deprimere poiché quel giorno il tempo si era messo al brutto. Per lo più era stato bello come lo può essere a maggio, anche nelle favole più liete, ma adesso era freddo e umido. Nelle terre solitarie erano stati costretti ad accamparsi dove potevano, ma almeno era sempre stato ad asciutto. E pensare che a momenti è giugno, borbottò Bilbo, mentre sguazzava dietro agli altri in un sentiero fangosissimo. L'ora del tè era passata, pioveva a dirotto, come aveva fatto per tutta la giornata. Il cappuccio gli sgocciolava negli occhi, il mantello era pieno d'acqua. Il pony era stanco e inciampava sui sassi, e gli altri erano troppo di cattivo umore per parlare. E sono sicuro che la pioggia sia entrata nei vestiti asciutti e nelle borse delle provviste, pensò Bilbo. Accidenti agli scassinamenti e a tutto quello che c'ha a che fare. Quanto vorrei essere nella mia bella casetta accanto al fuoco, con la cuccuma che comincia a fischiare. Non fu l'ultima volta che espresse questo desiderio. I nani non smettevano di avanzare, senza girarsi mai, e ignorando completamente lo hobbit. Chissà dove, dietro alle nuvole grigie, il sole doveva essere tramontato, perché il buio cominciò a calare mentre scendevano in una profonda valle sul cui fondo scorreva un fiume. Si levò il vento e i salici sulle sponde sospirarono e si piegarono. Per fortuna la strada passava sopra un antico ponte di pietre, poiché il fiume, gonfiatosi a causa della pioggia, si precipitava con violenza giù dalle colline e dalle montagne a nord. Era quasi notte quando arrivarono dall'altra parte. Il vento squarciò le nuvole grigie e tra i lembi fluttuanti una vaga luna apparve sopra le colline. A quel punto essi si fermarono e Thorin borbottò qualcosa al riguardo della cena. E dove troveremo un posticino asciutto per dormire? Fu solo allora che si accorsero che Gandalf non c'era. Fino a quel punto li aveva sempre seguiti, senza mai dire se era anche lui dei loro o se si sarebbe limitato ad accompagnarli per un po'. Aveva mangiato più di tutti, parlato più di tutti e riso più di tutti e adesso era semplicemente sparito. Proprio quando ci sarebbe stato più utile che mai. Borbottarono Dori e Nori che condividevano il punto di vista dello Hobbit riguardo ai pasti regolari, abbondanti e frequenti. Alla fine decisero che avrebbero dovuto accamparsi dove erano. Si spostarono sotto un folto d'alberi e sebbene lì sotto fosse più asciutto il vento scuoteva via la pioggia dalle foglie e il continuo stilicidio era veramente insopportabile. Il maleficio sembrava aver colpito persino il fuoco. I nani sono capaci di accendere il fuoco quasi dappertutto, servendosi praticamente di qualsiasi cosa, vento o non vento, ma quella notte non ci riuscirono. Neanche Oin e Gloin, che avevano una particolare abilità a farlo. Poi uno dei poni si spaventò per un non nulla e si imbizzarrì. Corse fin dentro il fiume prima che riuscissero a catturarlo e quando infine riuscirono a tirarlo fuori di nuovo, fili e chili erano quasi ennegati e tutto il bagaglio che portavano gli era stato strappato di dosso. Ovviamente si trattava in prevalenza di cibarie e così non ne rimanevano poche che per cena e ancor meno per la prima colazione. Sedevano tutti lì, abbattuti e bagnati, borbottando mentre Oin e Gloin continuavano a cercare di accendere il fuoco e a litigarci sopra. Bilbo rifletteva tristemente che le avventure non sono fatte solo di piacevoli cavalcate al sole di maggio. Quando Badin, la loro vedetta, disse «C'è una luce laggiù!» A una certa distanza c'era una collina coperta di alberi, qua e là molto fitti. «Nella massa scura si scorgeva una luce rossastra dall'aspetto confortante, come un fuoco, per esempio, o alcune torce accese. Quando l'ebbero guardata per un po', cominciarono a discutere animatamente. Alcuni dicevano «No!» e altri dicevano «Sì!» Alcuni dicevano che potevano almeno andare a vedere e che qualsiasi cosa era meglio di una misera cera, una colazione ancora più scarsa e vestiti bagnati per tutta la notte. Altri dissero «Queste zone nessuno le conosce bene, sono troppo vicine alle montagne, al giorno d'oggi i viaggiatori vengono raramente da queste parti, le vecchie mappe sono inutili, le cose sono peggiorate, la strada non è sorvegliata». Da queste parti si è sentito raramente parlare del re. «E meno curiosi si è, andando avanti, meno guai è probabile avere». Alcuni dissero «In fondo siamo quattordici», altri dissero «Dove è andato a finire Gandalf?» Questa osservazione fu ripetuta da tutti. Poi la pioggia ricominciò a scrosciare più forte che mai e Oin e Gloin presero a picchiarsi. Questo risolse la questione. «Dopotutto abbiamo uno scassinatore con noi», dissero e così si avviarono guidando i poni, con tutta la dovuta necessaria cautela in direzione della luce. Arrivarono alla collina e presto furono nel bosco. Salirono su per la collina, ma un sentiero vero e proprio che potesse portare a una casa o a una fattoria non era visibile. E sebbene facessero del loro meglio, non potevano evitare un bel po' di frusci scricchiolì e scalpicì, ma anche un bel po' di borbottì e di impregazioni, mentre avanzavano fra gli alberi al buio un buio nero come la pece. Improvvisamente la luce rossa brillò molto vivida fra i tronchi non lontani. «Adesso tocca allo scassinatore», dissero alludendo a Bilbo. «Devi andare a scoprire tutto su quella luce. A che serve? E se è tutto perfettamente sicuro e sotto controllo? disse Thorin allo hobbit. «Adesso corri e sbrigati a tornare. E se tutto va bene, altrimenti torna quando puoi. Se non puoi, fai due volte il verso della civetta e una volta quello del gufo e faremo tutto il possibile per aiutarti». E Bilbo dovette andare prima di poter spiegare che non era capace di fare neanche una volta sola il verso di un qualsiasi uccello, più di quanto non fosse capace di volare come un pipistrello. Ma ogni modo, gli hobbit si muovono molto silenziosamente, senza fare alcun rumore. Ne sono molto fieri e Bilbo aveva arricciato il naso più di una volta per «tutto quel chiasso nanesco», come diceva lui durante il viaggio. «Anche se non credo che voi o io avremmo notato nulla in una notte ventosa, neanche se l'intera cavalcata ci fosse passata a mezzo metro di distanza. Quanto a lui, Bilbo, che ora camminava tutto teso e attento verso la luce rossa, credo che nemmeno una donna l'avrebbe mosso un baffo al suo passaggio». Così, naturalmente, arrivò proprio accanto al fuoco, poiché di fuoco non si trattava, senza disturbare nessuno e questo è ciò che vide.